Bene, ciao a tutti da Frank, come dico sempre iscrivetevi al canale, lasciate un like e ditemi cosa ne pensate. E' partito il recupero tra Bayer Leverkusen e Milan, l'ho vista, la sto vedendo, mi sto permettendo ovviamente di commentarla, ditemi cosa ne pensate. L'abbiamo visto, secondo me, una signora partita con tante nozioni, soprattutto con quasi due partite diverse nella stessa partita. Perché? Perché fino al gol di Boniface, secondo me un centravanti veramente discreto, e ovviamente hanno Wiers, Frimpong, Guerrero, Xhaka, squadra di qualità. Possiamo semplicemente dire che forse il risultato che sta avvenendo ora in campo 1-0 per il Milan non va tanto bene. Perché poi dal gol, per assurdo, dopo il gol dell'Everkusen, il Milan è venuto fuori e credo che il Milan meriterebbe il pareggio per quello visto in campo. E io credo ancora che il Milan, come lo dico in campionato, ha veramente una batteria di attaccanti, ha una squadra di gamba, ha una squadra di fisico, ha una squadra di qualità. Perché ancora oggi Leao non ha proprio fatto vedere quelle che sono le sue qualità. Per me rimane uno dei giocatori più importanti d'Europa se ritorna ad essere con la testa concentrato su quello che deve fare in campo. Perché 3-4 opportunità nel secondo tempo per far vedere le sue caratteristiche, le ha avute, ma non le ha sfruttate. Per me Pulisic ancora nel secondo tempo è stato quello un po' più incisivo del Milan insieme a Ternandez. Ma una nota di merito va sempre, o quasi sempre, quando il Milan in difficoltà a Mignan, che nel primo tempo comunque fino al sessantesimo, fino al gol, ripeto, fino al gol di Bonifaz, è stato quasi un monologo. Dove il Milan una volta ha tirato verso il portiere e poi non si è più visto. Perciò questo è un problema, ora va in contropiede giustamente, diciamo, il Leverkusen perché il Milan sta cercando il pareggio a tutti i costi. Di poco fuori, di poco fuori, il tiro del giocatore dell'Everkusen. Detto questo, dicevo poi, il Milan c'ha l'off to chic, Fofana, giocatore secondo me sensazionale, che può ancora migliorare e diventare veramente forte. Chukwez è entrato alla panchina, è entrato alla panchina Morada e stavo dicendo che la nota di merito va anche a Gabbia ancora una volta. Perché ricordiamo sempre che questi sono giocatori, anche capita a quelli della Juve, dell'Inter, giocatori sempre un po' con l'etichetta di Scarso, di Pippa, però poi quando li chiami in campo fanno il loro e ha fatto due o tre chiusure importanti anche oggi dove poteva andare in porta direttamente il Leverkusen. Leverkusen cosa diciamo? È una squadra che comunque ti pressa, è una squadra che gioca benissimo, è una squadra che ha qualità, ma dopo l'1-0 ha preferito diciamo quasi mai affondare per il 2-0, ma soprattutto tenere l'1-0 che secondo me non è una loro capacità. Infatti il Milan, ripeto, aggredisce, sta aggredendo e può fare l'1-1 da un momento all'altro perché il Milan c'è. Non ho capito l'atteggiamento per esempio di Leverkusen, questo è per dire che dal campionato alla Champions cambia il timore di non poterlo, poterla vincere perché non sta proprio nelle corde quello che stanno facendo Leverkusen nell'ultima mezz'ora, per bravura del Milan e per un loro atteggiamento, perché Leverkusen fino al gol si è fatto preferire perché si vedevano degli scambi, si vedevano gli esterni, come riusciva ad allargare gli esterni, Guerrero e Flimpong, la cambi di gioco sempre al millimetro perché i due giocatori di centrocampo oltre ad essere anche interditore di buona corsa, di buona intelligenza, anzi buonissima intelligenza tattica, sanno giocare veramente a calcio. Ora, non so il Milan cosa poteva fare di più perché la partita ormai mancano 30 secondi alla fine, non so cosa poteva fare di più, certo che resta un mistero il fatto che il Milan si è svegliato dopo il gol, o si è addormentato troppo Leverkusen, ovviamente queste cose non si possono mai sapere, ma è sempre il campo, il giudice supremo, perciò chi vince ha sempre ragione, Leverkusen ora in attacco, credo che qui finisce più o meno la partita, il Milan perde 1-0, secondo me De non ha meritato il Milan di perdere, certo uno dice ai punti, ti rimporta, quello che volete, ma no, il Milan poteva sfruttare, per esempio su quel tiro di tornante si è deviato, traversa, Morata secondo me poteva fare molto molto meglio, lo dico anche in chiave campionato, per me il Milan è una buonissima squadra perché poi noi siamo tutti, ricordiamo tutti i tifosi, noi siamo risultatisti, oltre a voler vedere il calcio stupendo, il calcio bellissimo, il calcio spettacolare, alla fine siamo tutti risultatisti perché al Milan anche in campionato ha fatto due vittorie, già gli animi diciamo si sono un po' tranquillizzati. Oggi secondo me ha fatto un'altra buona prestazione, il primo tempo, il secondo tempo si può dire quasi tutto a tinta rosso nero che oggi aveva la maglietta bianca. Il Milan è una squadra interessante anche in campionato da non sottovalutare, ripeto il Milan ha tantissimi giocatori, ha giocatori giovani di gamba, fisici di qualità e che devono soltanto far esplodere il loro volere anche in campo, perciò quello che voglio dire è che la partita è finita, il Milan ha perso e abbiamo visto una bella partita. Fatemi concludere dicendo che non so se a chi piace questa Super Champions, vedere queste goleade, non parlo ovviamente di Leverkus e Milan, parlo di Barcellona, parlo di Bayern Monaco, di City, di Inter, Borussia, diciamo squadre tra virgolette di terza, quarta fascia, no? Allora io quello che voglio dire è che se si voleva tentare di far essere più spettacolare questa Super Champions, credo che il tentativo non è stato dei migliori, perché non so, almeno 7-8 partite ad ogni giornata sono quasi da non guardare, perché fanno veramente pietà dal punto di vista tecnico e dal divario che c'è tra squadre europee. Io credo che veramente Shefferin non sapeva dove cagare quest'altra minchiata e ci dobbiamo assorbire, secondo me, fino a gennaio tantissime partite che contano veramente zero. Io parlo di appassionato, parlo anche se la Juve non dovesse fare la Champions, come l'anno scorso non faceva la Champions, le partite le guardo tutte o cerco di guardarle tutte e onestamente ad oggi questa nuova formula mi fa veramente vomitare, semplicemente perché ci sono diverse partite che contano nulla, perché poi andiamo a vedere, ci sono squadre che prendono la quarta fascia che possono vincere 8-0 e poi quarte fasce che sono di alto livello, per esempio, ora io non voglio fare la vittima, a me la quarta fascia mi capita la Stonvilla, non mi capita il Bratislava, no? E allora questa cosa qua, secondo me, non va assolutamente bene. non lo so, io ripeto, sono un po' interdetto, forse sarà molto più bella da febbraio in poi. Niente, non mi piace per niente, io continuo a vederla, mi vedo le partite quelle più interessanti, oggi c'era anche Arsenal-PSG, ho preferito di guardare l'Evercruzio al Milan perché il Milan è un avversario, diciamo, secondo me, principale della Juve, insieme ovviamente a Napoli, Inter, se dovesse tornare la Roma e l'Atalanta, perciò quelle sono le squadre, perciò il Milan mi interessava vederle e credo che il Milan sta crescendo, sia fisicamente anche come attenzione in campo, perché è vero che oggi, e oggi fanno fatica tutti, con l'Evercruzio, con l'Evercruzio fanno fatica tutti, crea, oggi il Milan ha messo veramente alle corde, mi è sembrato come la finale d'Europa League, l'Atalanta l'ha messa alle corde, ha vinto 3-0, poteva vincere di più nei 95 minuti, il Milan l'ha messa sotto 30 minuti, almeno due occasioni poteva sfruttarle meglio e poi è stata anche un po' sfortunata con quella traversa e quella ribattuta di Morada. Amici miei, iscrivetevi al canale, Frank, calcio, mi piace, ciao!